ciao a tutti sono tommy dell'olio vi do il benvenuto come sempre nel mio studio di registrazione nella mia regia di mix e nell'episodio di oggi vorrei parlare di un argomento secondo me molto molto interessante che sta un po in una sorta di è un sotto di ponti in una sorta di via di mezzo fra il mix e il mastering che ormai diciamo che hanno un rapporto abbastanza diretto nel senso che molti o forse dovrei dire sempre meno come me amano mixare conclude concludere la routine di mix e poi mandare a masterizzare il prodotto in un altro studio e questo non vuol dire non conoscere tecniche di mastering ma anzi vuol dire avere una cognizione precisa di tutto ciò che verrà fatto dopo la nostra routine di mix per sapere detto in parole povere quanto spazio lasciare esiste poi tutta un'altra scuola di pensiero che devo dire la verità io lo vedo sia con i miei amici colleghi telefonici e sia con gli allievi che seguo in tutti i miei percorsi one to one di mix vedo che ultimamente sta e che è un po una moda che arriva dalle dm quella in sostanza di fare mix e mastering contemporaneamente in una soluzione unica all'interno di un'unica sessione e io se mi doveste chiedere cosa ne penso beh un po implicita la risposta a me piace fare solo mix e mi piace avere un'altra persona che si cura del mastering perché ritengo che il fattore umano di un'altra persona cioè il mastering engineer che controlla ciò che noi facciamo in mix e perché no magari lo corregge è chiaro che per me una volta che chiudo mix il mio mix va bene se dovessi fare il mastering del mio mix lo farei perfettamente nel solco di quanto ho già quindi tutte le scelte a livello di equilibrio timbrico immagine stereofonica pressione sonora quantità di compressione quantità di saturazione andrei nel solco esatto di quello che ho già fatto in mix perché ovviamente sono io che ho mixato quindi di fatto sto andando a finalizzare un lavoro che per me andava già bene cosa che invece non accade quando noi masterizziamo anzi mandiamo masterizzare ad una terza persona in questo caso ovviamente abbiamo una sorta di controllo qualità fatto da un'altra persona con un altro gusto estetico quindi non è una questione di tecniche simili o diverse utilizzate in mastering però vengo al punto qualunque sistema va bene questo vorrei dirvi e mi sembra ovvio se ottenete un buon risultato facendo mix e master in contemporaneamente perché no io oggi però vorrei trattare con voi un argomento preciso cioè siccome siamo in un'epoca di volumi altissimi over compressione parlo soprattutto di mastering stage più che di mix in stage e ovviamente tutti gli artefatti che ne derivano perché chiaro che più riduciamo range dinamico a parte tutti i discorsi che si fanno sul true peak per altro veri che un sacco di prodotti commerciali importantissime hanno il true peak oltre lo zero di bfs ma non ne vorrei parlare oggi ci sono un sacco di altri video ormai su youtube che ne parlano e molto interessanti esaustivi qual è una questione io invece vorrei parlare con voi di un'altra questione cioè di quanti sono i prodotti commerciali oggi che hanno un rms che secondo me è molto più importante del true peak hanno un rms di meno 4 meno 3 e mezzo meno 3 delle volte secondo me è una follia ma anche qui non voglio dirvi qual è il mio pensiero in riguardo a quello che è il mio gusto estetico vorrei darvi delle informazioni tecniche quindi la domanda che io mi sono fatto mi sono dato delle risposte ve le farò vedere in questo tutorial di modo che ci si possa confrontare e possiate anche voi sperimentare in tal senso è ma qual è l'rms perfetto io mi spiego meglio prendo una sessione faccio un mix ovviamente il mix viene fatto all'interno di un range dinamico nel mio caso attorno ai meno 10 db rms comunque molto più grande rispetto al range dinamico di un master tradotto in pratica mix un volume più basso di un master perché chiaramente l'ultimo step di innalzamento di volume viene fatto in master la domanda che io mi faccio è ma quanto posso realmente salire di volume oltre al qua in maniera trasparente cioè oltre quale punto oltre quale livello il mio innalzamento di volume comincia a produrre una variazione nei rapporti fra le frequenze quindi fra gli strumenti io faccio un mix ve la spiego ancora in maniera ancora più semplice io faccio un mix e metto la cassa il rullante il basso la voce e così via insomma ci siamo capiti esattamente dove voglio che io stiano in termini di volume e in termini di equalizzazione e compressione vorrei che il mio master suonasse sì più forte possibile quello è ovvio ma con il mio mix quindi con le proporzioni di volume che io ho scelto e la domanda che mi faccio è oltre quanto fino a quando fino a quanto posso spingere prima che l'andare ancora più in su di volume cominci dico a caso a farmi perdere immagine stereo a farmi perdere pressione in termini di decibel sulle basse a farmi perdere definizione sui transienti ad innescare un aumento secondo me eccessivo di limiti di saturazione sostanzialmente ecco qual è questo sweet spot io vorrei prova io ho messo a punto un meccanismo abbastanza semplice io credo poi me lo direte voi dopo che avrete visto il video e vorrei farvi vedere esattamente questo vorrei mostrarvi questo meccanismo cioè partendo da un mix oggi non avremo una sessione completamente mixata avremo una sessione diciamo bene impostata in termini di game staging quindi ben riordinata non finalizzata vi dico la prima cosa che mi viene in mente non ho neanche aperto gli effetti sulla voce total dry non mi interessa la voce è compressa sequalizzata il beat sotto musica compresa è correttamente bilanciato ho messo alcune tecniche chiave che io definisco salva spazio per esempio sai c'è in per esempio alcuni multibanda per mantenere i livelli in ordine e da lì sono partito anzi partirò lo vedremo insieme per farvi vedere step dopo step con la mia master in chain come si può tenere sotto controllo il volume in termini di quello che io definisco aumento pulito io voglio sapere esattamente quanti decibel posso aggiungere alla mia master in chain con la mia master in chain in maniera pulita vorrei dirvi quest'ultima cosa poi ci spostiamo sul pro tools io oggi non voglio farvi vedere il massimo live il massimo volume raggiungibile possibile voglio farvi vedere il massimo del volume che voi potete raggiungere senza creare pressoché nessuna variazione al mix quindi voi sapete che ve la dico così fino a quel livello voi potrete mantenere il vostro mastering perfettamente clean quindi la tridimensionalità l'immagine stereo il rapporto fra gli strumenti la pressione sulle bassissime sulle altissime rimane più o meno non perfettamente identico sarebbe impossibile rimane quasi identica e da lì poi volendo c'è ancora margine se volete fare un master in ancora più aggressivo lo deciderete voi però secondo me il fatto di sapere esattamente dove ci troviamo cioè cioè se siamo già nella zona rossa quella in cui stiamo colorando con la master in chain oppure se siamo ancora in quella zona in cui stiamo aumentando il nostro volume in maniera quasi perfettamente conservativa secondo me è una cosa assolutamente da sapere perché da lì poi è più facile prendere le scelte quindi io direi basta chiacchiere spostiamoci sul pro tools e vediamo insieme benissimo eccoci davanti al pro tools vi ho preparato questa sessione il brano si chiama stranded prodotto da gianluca roman potete trovare la versione ufficiale mixata e in questo caso masterizzata come quasi sempre tutte le mie release ufficiali da giovanni versari la potete trovare sul mio sito www.tomidellolio.com io vi ho preparato lo stesso identico multitraccia chi mi segue già lo sa rosso è il codice colori delle batterie l'arancione delle percussioni il verde dei bassi il blu delle chitarre il viola dei synth il giallo delle voci e di nuovo il marrone per i backing vocals in questo momento a dire la verità sono vedete sono tutti spenti in mute e colgo l'occasione per dirvi che questa che vedete questo che vedete davanti agli occhi è lo stesso multitraccia della release ufficiale ma questa non è la stessa sessione di mix l'ho riaperta ex novo ho importato i plug e scusatemi ho importato le tracce all'interno del mio template e ho aperto il minimo dei plug necessari giusto per fare un pizzichino di balance anche perché il discorso qui era semplicemente quello di bilanciare la sessione ovviamente ho implementato qualcosa che secondo me è imprescindibile per esempio un pizzico di sidechain multibanda tecnica che io utilizzo molto ho ovviamente implementato un po' di filtri vari per cercare di fare pulizia ho messo un minimo di chain vocale quindi qualche plug sulla voce per cercare insomma di fissare la dinamica ovviamente di schiararla un pochettino insomma diciamo che ho fatto una specie di non saprei neanche come chiamarlo non è un premix diciamo un mixino veloce giusto per avere le cose ordinate non è rifinito non ho se pensate acceso neppure un effetto neanche sulla voce non mi interessava perdere tempo con quelle cose lì ovviamente tutte queste tecniche io le approfondisco all'interno dei miei corsi di mix one to one quindi sono tutte cose che per chi lo desidera mi può contattare le possiamo approfondire insieme ma qui oggi con voi vorrei parlare del discorso loudness quindi vi faccio innanzitutto sentire un frammento della canzone e vi faccio vedere anche un paio di cosine qui sul digi check cioè detto in altre parole sull'analizzatore di spettro che per quanto mi riguarda è lo strumento di misura dei livelli del mio mix numero uno vi faccio ascoltare un frammento di brano innanzitutto faccio ascoltare un frammento di buon Benissimo Anche qui vedete che quello che io considero il punto di partenza di ogni mix, in questo caso del mio, è il livello meno 10 di cassa rullante. Questo per darvi un'idea, per chi non conoscesse il mio gain staging, anche qui è uno degli argomenti, anzi è l'argomento più importante di tutti i miei corsi di mix, lezione individuale, one to one, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, quello che mi preme sottolineare adesso è che io ho fatto un balance, seguendo ovviamente il mio gain staging abituale, di questa sessione partendo con un livello di meno 10 dB dallo zero, misurato sull'analizzatore di spettro, di cassa e rullante. Quindi, informazione importante, per me e cassa e rullante stanno allo stesso volume di picco riferito ai dB sulla fondamentale. Da qui possiamo fare tutti i nostri discorsi, tra virgolette di mastering, nel senso che il gain staging che ovviamente io scelgo, come penso ciascuno di voi faccia, è un gain staging che mi piace, intendo dire mi piace come suona, nel senso che da un lato mi lascia dinamica sufficiente per far sì che tutti gli elementi del mix si esprimano nella loro integrità. Quindi, non ho in questo caso nulla di ciò che metterò in mastering chain, che mi serve per arrivare a un RMS da mastering, ma che non voglio in mix. Quindi, estensione totale in termini di frequenze e range dinamico, in termini di banda passante, forse per dirlo più correttamente, e range dinamico sufficiente per far sì che tutto si esprima per quella che è la dinamica reale della traccia. Quindi, io quello che voglio dirvi è, parto da un livello di mix che permette alla mia dinamica di esprimersi completamente. Quindi, non ho compressioni di frequenze, quindi non ho perdite di frequenze né sulle bassissime né sulle altissime, ma sento tutto perfettamente, qualunque cosa voi mi date, anche la più profonda, il più profondo dei key, col più profondo degli 808, dei sub synth, col gain staging che io scelgo di utilizzare, mi verrebbe da dire, lo scelgo apposta, altrimenti lo farei più basso. Mi permette di ascoltare i vostri stem nella maniera più completa possibile. Stessa cosa vale per la dinamica. Se a un certo punto dovesse un sub, una percussione, un loop, un tom, avere quei 2-3 dB in più di volume, nel senso che è contenuto all'interno della traccia, il mio gain staging mi permette di sentirlo, me lo restituisce. Quindi il mio analizzatore di spettro, in questo momento, è in grado, come avete visto, quando tutta la canzone suonava, di salire anche oltre il meno 10. Non è una sorta di breakwall, ci mancherebbe altro, il mio meno 10. Quindi, questo per dirvi che scelgo un gain staging che permetta al mio mix di suonare compatto, quindi, tra virgolette, già un gain staging che presuppone un RMS globale di fine mix, un volume delle singole tracce già altino, ma non così alto da andare a creare delle costrizioni dinamiche. Questo secondo me è un concetto importante. Quindi, per dirvela in altre parole, io cerco di mixare con un gain staging finalizzato a raggiungere un RMS di circa meno 10. Questo è il mio obiettivo. Questa è la partenza. Questo tutorial, piccola parentesi, non è fatto per essere applicato solo da questo gain staging di partenza. Quello che sto per farvi vedere non è una tecnica che necessita di essere applicata da qui. Io ho la mia tecnica di mixo, il mio gain staging, mixo in questo modo, setupo il livello in questo modo, per me va bene così. Quindi, parto da qui. Voi potete avere un gain staging diverso. Per esempio, alcuni di voi, magari se lavorano in analog style o addirittura in ibrido, quindi con l'integrazione di macchine analogiche, sommatori, o magari qualcuno di voi addirittura con una console, decidono di mixare a 0 dbvu, con lo 0-18 dbfs, per dire la prima calibrazione che mi viene in mente del mondo analog. Io quando lavoravo in ibrido la utilizzavo praticamente sempre. Ci può stare. Il principio che sto per farvi vedere è esattamente lo stesso. E, ripeto la domanda da cui siamo partiti nell'introduzione. Come faccio adesso? Ok, io ho la mia mastering chain, ok? Ho tutti i miei plugin che faranno tutte le loro cose. Ma, e ovviamente alzeranno il volume, perché poi il fine ultimo della mastering chain è nel migliore, nel modo, scusate, migliore possibile, più trasparente possibile, noi vogliamo andare ad alzare il volume, ok? Quindi la domanda è, il mio fatidico maximizer, adesso mettiamo tutto a 0, ovviamente se io abbasso questo slider il volume sale. La domanda è, fino a quando, fino a quanto posso far salire il mio volume senza andare a degradare la dinamica del mio mix e quindi a cambiare le proporzioni? Perché, attenzione, se io abbasso questo slider il mio volume salirà. Ma, ve la spiego così, fino a un certo tot il volume salirà in modo perfettamente simmetrico in relazione a com'è il mio mix sulle varie frequenze. Quindi io ho un aumento di volume, ma tutte le mie frequenze, le basse in proporzione alle medio-basse, in proporzione alle medio-alte, in proporzione alle alte, rimarranno esattamente come le ho lasciate in mix e questo è bene, ovviamente. In questo senso, più sale meglio è, siano solo che contenti. Ma, nel momento in cui io comincio a salire troppo, cosa succede? Che alcune frequenze non hanno più margine di salire, altre invece sì. Allora io sento il mio mix che comincia a cambiare. E questo a me non piace, perché non è un cambiamento che io sto ricercando. Io apro un equalizzatore su un canale, vado a boostare perché sto cercando un cambiamento, ok? Voglio schiarire, o voglio dare più medie, o voglio dare più basse. Se io desidero questo, applico un equalizzatore in mix e lo faccio e questo va bene. Ma se io spingo troppo forte in mastering, oltre al fatto che perdo in termini di impatto, perché i miei transienti, che sono quelli che mi danno brillantezza, definizione e percussività alla mia canzone, vanno a perdersi. E questo secondo me è male. Ma contemporaneamente io vado a sbilanciare, ve la dico in altre parole, magari la voce uscirà di più, la cassa rullante andranno un pochettino indietro, il mio mix avrà la sensazione di smagrirsi sotto, oppure di scurirsi sopra, oppure di prima suonava così, bello equilibrato su tutte le frequenze, adesso comincia a suonare un po' medio altoso, come lo chiamo io, quindi diventa piccolino, scatoloso. Sì, il volume sta salendo, ma non è più il timbro, cioè il rapporto, cioè l'equilibrio fra le frequenze, che io avevo creato in mix. Questo è il sintomo di un mastering in malfatto, o comunque di un aumento eccessivo di volume in mastering. Quindi, veniamo al punto, come facciamo a trovare il nostro volume ottimale? Allora, io procedo più o meno in questo modo. La prima cosa che faccio, con sommo dispiacere, ma non ci sono alternative, vado a tagliare gli estremi di banda, cosa che non farei e non faccio e non farò mai nella mia vita in un mix, ma che, secondo me, in fase di mastering diventano necessari per permettere sostanzialmente un aumento di volume il più pulito possibile, devo andare a rinunciare agli estremi di banda, perché le basse mi occupano moltissimo spazio, perché le alte, per effetto del diter, sono le prime a subire il noise shaping, quindi ad andare in distorsione. In questo caso le altissime, il noise shaping è oltre i 17-18000 Hz, in casi fortuiti anche di più di così. Comunque, io qui ho fatto un taglio molto aggressivo, diciamo radio edit, diciamo adesso è 33,867, facciamola semplice, 35-18000, è un taglio molto aggressivo. Questa cosa io la vado a fare per preparare, adesso vi racconto quello che sto facendo, poi mi zittisco e vi faccio sentire i plug-in in acceso spento uno per volta. Poi vado ad applicare un paio di compressori, altra cosa che io non farò mai nella mia vita, io non mixerò mai dentro un bass compressor, perché trovo che sia assolutamente inutile, ma sono altrettanto consapevole che i compressori sono necessari nelle mastering chain, anche qui per ridurre la dinamica, il mastering secondo me va a peggiorare, noi andiamo a peggiorare un mix virtualmente perfetto come risoluzione audio, non sto parlando di il mio mix è perfetto, il tuo mix è perfetto, ciascuno di noi artisticamente mixa come vuole, però il mix viene fatto in un regime di RMS, quindi di rapporto dinamico perfetto, ottimale. Ma perché è perfetto? Perché me lo scelgo io, per me la musica suona divinamente a meno 10 di RMS e quindi faccio un game staging che mi permetta di mixare a meno 10. Per te che mi stai ascoltando magari a range ottimale a meno 15, benissimo, farai un game staging che ti permetterà di mixare a meno 15, lo scegli tu, quindi per te sicuramente sarà perfetto, io ovviamente lo scelgo per me, ma nel momento in cui io vado a masterizzare mi devo uniformare al resto dei prodotti che sento su Spotify per esempio, per dire la prima cosa che mi viene in mente, comunque in generale delle finalizzazioni commerciali e lì devo raggiungere un RMS che normalmente è meno 5 di picco, quell'RMS è quello che attualmente il mercato richiede, quindi io devo andare a comprimere la dinamica e ridurre la banda passante per, come si direbbe, fittare, quindi starci dentro in quello che sostanzialmente è lo spazio disponibile, unico possibile, che permetta alla mia musica di arrivare a quel volume senza distorcere. Quindi metto dei compressori, in questo caso li spiego sommariamente perché come ho già anticipato ho fatto già altri due video in cui spiego nel dettaglio bene, ciascuno di questi plug-in, comunque questo è un bass compressor che agisce sul complessivo, quindi in full range, su tutto il materiale, non c'è side chain di frequenze, questo invece è un compressore che agisce solo su questa porzione di frequenze, quindi solo sulle medio-alte e peraltro in parallelo perché ha un controllo di wet dry, quindi in sostanza io vado ad applicare una compressione parallela, ok, sul mid range, medio-alte, anzi per essere più preciso e dopo di questa, lo vedete dall'ordine dei miei plug-in, vado ad applicare una compressione full range su tutto il programma ovviamente e in questo caso la faccio con l'SSL. Allora, questi due compressori io li ho regolati in modo, mi piace così, in modo che vadano a guadagnare del volume rispetto al suono in ingresso. Questa cosa fra l'altro se ricordo male fosse nel video, nel doppio video, nel doppio mixing tricks di Mastery non l'ho fatta, quindi interessante vedere qui c'è, là non c'è, in termini teorici non cambia nulla, perché dico non cambia nulla? Perché se io alzerò il volume tramite il make up gain di uscita di questi plug-in avrò meno margine di intervento con la threshold del mio maximizer, ok? Se io invece regolassi questi plug-in in unity gain avrei tutto il volume disponibile sullo slider del maximizer e è una ripartizione differente ma di un totale di decibel che più o meno ha sempre quello, spero di essermi spiegato chiaramente, non è che se io lavoro in unity gain e quindi mi trovo con, dico un numero a caso, 4db disponibili di aumento di volume, se invece vado a lavorare con dei plug-in settati in modo da avere un aumento di decibel ad ogni attivazione, poi comunque vado ad aggiungere 4db, andrà in distorsione, quindi o li aggiungo prima con un make up gain in additivo, oppure li aggiungo dopo, nel caso di questa sessione che ho preparato per voi in realtà vado a splittare il carico di aumento di dB sui vari plug-in, quindi questo compressore quando si attiverà darà un aumento di volume, quest'altro compressore darà un altro aumento di volume, questo maximizer impartirà l'ultimo aumento di volume, questo è il modo in cui i vari plug-in contribuiscono alla crescita del livello. Veniamo al cuore del nostro tutorial, diciamo che vi ho anticipato un pochettino quello che andremo ad utilizzare, allora per ora lascio acceso questi, scusatemi, 1 e 2, eccoci, lascio acceso questi due plug-in che sono il maximizer, lo stereo image per ora lo spengo, non mi interessa, lascio acceso il maximizer che come vedete è a 0, quindi non impartisce al momento nessun aumento di volume neanche di 0, lascio acceso il mio equalizzatore, ok, e partiamo da qua, guardate, mi spengo il microfono, e partiamo da qua, guardate, mi spiego, guardate, mi spiego, guardate, mi spiego, guardate, e partiamo da qua, guardate, mi spiego, guardate, mi spiego, guardate, mi spiego, guardate, guardate, mi spiego, guardate, mi spiego, guardate, mi spiego, guardate, mi spiego, guardate, ok, ecco mi ci sono, vi facevo i segnali, i gesti intanto che stavo andando alla musica, Allora avete visto che il totale della mia Master in Chain, quindi potremmo dire escluso lui che non apporta nessun aumento di volume, escluso lui che anche questo non apporta nessun aumento di volume, io con i miei due compressori ho apportato un aumento di 4,5 dB, diciamo 4,5. In questo modo io cosa ho fatto? Ho prodotto un make up gain contestualmente ad un minimo di compressione sulle frequenze, in questo caso medie, medio-alte, in questo caso tutte le frequenze. Quindi diciamo che il gioco è un po' quello di aumentare il volume con come prezzo da pagare andando a levare qualcosina, in questo caso un pochettino di dinamica, in questo caso un pochettino di risposta in frequenze sulle altissime. E vedete che ovviamente tutto suona più o meno simile, molto pulito. Io sto facendo volutamente questa operazione, e questo è proprio il senso del tutorial che stiamo facendo, io sto facendo questa operazione solo sul drum bass, perché ho bisogno di vedere soprattutto casse rullante, solo i picchi, voglio vedere se quelle frequenze rimangono perfettamente inalterate. Io cosa faccio quindi? Produco un aumento di volume con questi due plug-in, dopodiché accendo, in realtà è già acceso, questo è di attivo, il mio maximizer, ma non vado a toccare la threshold, vado a toccare il ceiling e lo abbasso in modo da riportare la mia chain attuale in unity gain, ok? Guardi cosa succede. Grazie a tutti. Vedete che io ho portato, in questo caso ho abbassato il ceiling del mio maximizer di meno 4,5 dB e ho portato la mia chain di mastering perfettamente, perfettamente in unity, ok? Quindi che cosa succede adesso? Succede che io a questo punto ho prodotto con i miei due plug-in di compressione un aumento di volume di 4 dB e mezzo, ho compensato con un abbassamento in output di 4 dB e mezzo ed ecco che la mia cassa e il mio rullante risultano esattamente, esattamente a pari livello come nel mio mix. Quindi questi 4 dB io li considero buoni, sono un più 4 dB che ci stanno. Adesso guardate cosa faccio, vado ad attivare il pulsante del link e comincerò a giocare in questo modo, vedete? Che i miei fader, i miei slider sono sincronizzati, se io vado giù di 1 dB lui andrà a meno 5,5, da 4,5 a 5,5, se io vado giù di 2 dB lui andrà da 2, da 4,5, scusate, aggiungo il 2 e quindi andrà a 6,5. Provate a vedere quello che succede al mio programma audio se muovo questo slider e cosa succede in relazione soprattutto a quanto lo muovo. Vi faccio vedere. Grazie a tutti. 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 un aumento di livello passando da 1 a 2 per me vuol dire che è meglio stare al valore più basso sentite questo che state sentendo è il mix adesso full master in chain all these memories are like a day's your fool oh waste of time oh she got me sailed away 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 to be honest i gotta panic Di nuovo mix Scusate Mastering chain completa Ad eccoci qua Noi in questo modo abbiamo prodotto Ritorno ovviamente Allo unity gain di prima Che era 5, aiuto Non mi ricordo più Faccio sempre fatica a fare i conti Era questo esattamente Ecco 5,7 Noi abbiamo prodotto un aumento Di 5,7 dB Senza intaccare minimamente La dinamica di questa canzone Il meccanismo che vi ho fatto vedere Cioè quello di step by step Tenendo sotto controllo i transienti Di cassa rullante Vedere fino a quando Potete aumentare il volume Fintanto che Non avete All'aumento della threshold Una diminuzione dei picchi Sull'analizzatore Lì vuol dire Che state cominciando A degradare la dinamica In maniera consistente In questo modo Voi facilmente Riuscite a trovare Lo sweet spot Perfetto Per ognuno dei vostri mix Per avere il vero aumento Di volume in mastering Che vi porta ad avere Una bella pressione sonora Ma contemporaneamente Una grande qualità di ascolto Anche perché vi invito A fare una cosa Se voi andate Nelle nostre classifiche Anche quelle italiane Sentite Un sacco di prodotti Che suonano fortissimo Secondo me In maniera Veramente esagerata Ma quando poi Andate a sentire I veri Top mixing engineer Me ne viene in mente Uno su tutti Sar Manghenea I loro prodotti Non suonano mai Così forte Non suonano mai Così chiari E secondo me Suonano con una qualità Che non è superiore È dieci per È dieci volte superiore Non un po' di più E la bravura Secondo me Di quei personaggi Come Sar Manghenea Non è spingere forte Come il tizio Caio Trapper Che va in classifica In Italia Senza togliere niente A nessuno Io esprimo la mia opinione E dico semplicemente Quello che mi E quello che non mi piace Quando ascolto delle cose Poi ognuno è liberissimo Di fare quello che vuole E comunque Il successo di un artista Non lo determina Certo la mia opinione Che non vale niente Ma è il mercato Io però esprimo La mia opinione Da tecnico E siccome mi sto Relazionando con voi In questo caso In una sede didattica Vi dico Provate a farvi Questa domanda Come mai I prodotti Del fonico Oggi Più ricercato E più pagato Al mondo Nella musica pop Che è Serba Anghenea Spesso suonano Più basse di volume Di tante produzioni Nostrane E non solo O comunque Produzioni di livello minore Spesso suonano Più basse di volume Spesso suonano Meno chiare E brillanti Perché È sempre il solito discorso Se noi vogliamo Mantenere un'integrità Dinamica Di risposta In frequenze Tale per cui Il nostro prodotto Sia in grado Di suonare bene Forte E rilassante All'ascolto Su qualsiasi dispositivo Dobbiamo stare attenti Allo sweet spot Se lo oltrepassiamo Per avere Quel punch in più Sul mini monitor Poi ovviamente Questa cosa La paghiamo Sotto altri parametri E ovviamente Sta a voi La scelta Se voi decidete Di andare Ancora più giù Con questa trash O di un altro Db o due Lo potete fare Il volume La risposta È sì Salirà ancora Ma secondo me A quel punto Cioè oltre questo livello Avrete un aumento Che vi costa In termini di risoluzione Un termine Un prezzo troppo alto Che io Personalmente Sul mio lavoro Non pagherei Quindi La tecnica Che vi ho fatto vedere oggi Misurata Elettricamente È un modo Per capire Fino a quando Spingerci Senza Quasi Quasi Qualcuno c'è sempre Quasi Senza effetti collaterali Se da qui Decidete Di spingere di più Quello ovviamente Poi rimane Una vostra Scelta artistica Io vi invito A sperimentare Spero che questo video Ovviamente Vi possa essere D'aiuto e di ispirazione Per costruirvi Le vostre tecniche E le vostre chain Vi rimando Ovviamente Al prossimo mese E Vi aspetto Sul mio sito Per chi ovviamente Fra di voi Desidera Fare degli approfondimenti One to one Con me E vi auguro Buon mix E ci vediamo presto Ciao 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 Ciao